Buonasera e ben trovati gentili amici sportivi per questa edizione del nostro telegiornale dello sport. Iniziamo questa edizione parlando di calcio, parlando in particolare di un pistoiese che ci rappresenterà nel massimo campionato europeo di calcio. Come vedete dal monitor alle mie spalle sto parlando di Massimiliano Erati che non sarà un arbitro in campo, bensì farà parte della squadra VAR che arbitrerà la finalissima degli europei tra Inghilterra e Spagna a ore 21 fissato per domenica 14 luglio. La squadra arbitra è guidata dal francese François Letexier. A noi ci uniamo e complimenti e le congratulazioni fatte da tutto il mondo del calcio italiano per questa rappresentazione, in particolare noi di Pistoia che la sentiamo ancora più da vicino. Facciamo il nostro grande in bocca al lupo a Massimiliano Erati per questa grande esperienza internazionale. Però dal calcio passiamo al basket perché è uscito con un comunicato stampa la squadra bianco-rossa del Pistoia Basket in Serie A dalle parole del suo vicepresidente Massimo Capecchi che è andato all'attacco dopo le dure critiche dei giorni scorsi. Il vicepresidente del Pistoia Basket Massimo Capecchi è uscito con una nota sul sito ufficiale della società per preservare la sua immagine e l'operazione che ha permesso al gruppo americano capitanato da Ron Rowan di acquisire la maggioranza del club bianco-rosso. È fondamentale ricordare innanzitutto che le quote societarie del Pistoia Basket, dice Capecchi, sono state cedute al termine di una lunga trattativa che ha avuto come clausola irrinunciabile quella dell'impegno da parte dei compratori di farsi carico del costo delle stesse e di tutto ciò che era necessario per la salvaguardia della società. Per quel che concerne il closing, la cessione è stata autorizzata e formalizzata anche perché giuridicamente non avrebbe potuto essere altrimenti dal socio di maggioranza Sport Media Company, società interamente controllata dal consorzio Pistoia Basket che ha accolto e condiviso la mia proposta in qualità di presidente del club. Il passaggio delle quote di maggioranza, prosegue il vicepresidente, è iniziata nel luglio 2023 e che è stata seguita da un team di professionisti esterni alla società con la quale essa stessa non aveva mai avuto rapporti da fare in precedenza che si sono rapportati con i CIDA di Pistoia Basket, Consorzio Pistoia Basket e Sport Media Company fino al momento della conclusione dell'operazione. La East Coast Sport Group Italia sta ottemperando con assoluta puntualità a tutti gli impegni economici assunti, andando anche oltre quello che è stato il mero acquisto della quota societaria. Alla luce del percorso che ho portato avanti in questi anni, nei vari ruoli che ho ricoperto all'interno del Pistoia Basket, sapete bene quanto sia complicato per me dover affrontare questo tipo di argomenti che vanno a violare quello che è stato il riservo che ho sempre mantenuto ma non potevo fare altrimenti, ci finisce in mezzo la mia onorabilità, chiude Capecchi, e per questo, se necessario, mi tutelerò nelle sedi competenti così come farà la società nel caso di diffusione di notizie difforme alla realtà. Questo in sintesi, il pensiero di Massimo Capecchi in un momento in cui i tifosi sono disorientati, non tanto sulla questione finanziaria, quanto sulla costruzione della squadra. E vedremo quali saranno gli ulteriori aggiornamenti che ci perverranno dalla squadra bianco-rosso. Sappiamo che sono in atto i lavori al Palacarara intanto per il rifacimento del parquet e appunto vedremo anche se arriveranno delle dichiarazioni. Nei prossimi giorni ha atteso il patron Ron Rowan a Pistoia e appunto per conoscere la situazione del club bianco-rosso sia sul campo che fuori dal campo. Adesso però sempre di basket parliamo, però da Pistoia ci spostiamo a Montecatini perché la Fabo Erons ha ingaggiato il giovane playguardia Giulio Giannozzi, classe 2005, un metro e novanta di altezza che andrà a far parte appunto della rosa della prima squadra allenata da Federico Barzotti. Nonostante la giovane età, vantaggia esperienze di buon livello da Olimpia Legnaia Firenze dove è cresciuto cestisticamente nell'ultimo anno ha disputato con i fiorentini la B Interregionale e contemporaneamente ha partecipato alle finali nazionali Under-19 con Firenze Basketball Academy. Sempre in Val di Nevole, sempre basket, però basket femminile perché la NICO ha nominato Maurizio Maccioni come responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni per la stagione sportiva 2024-2025. Appunto questo è un decreto previsto ormai dalla Federazione Italiana Pallacanestro, l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi con tante altre nomine, lo stesso Pistoia Basket in Serie A e appunto sarà Maurizio Maccioni a ricoprire questo ruolo, il responsabile dovrà operare allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazioni su tesserati e dovrà garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi. Anche a lui vanno insomma il nostro un bocca al lupo perché sappiamo essere temi sempre più di attualità anche nel mondo sportivo. Ultima notizia, quella che riguarda il tennis club Pistoia perché è stata presentata la stagione per la squadra di B2 Femminile, il servizio della nostra Gina Nesti. Si è conclusa la stagione di tennis Serie B Femminile con la salvezza, è stato un campionato impegnativo? Qual è il bilancio? Sicuramente quest'anno il campionato di B2 Femminile è stato molto impegnativo e il risultato finale di essersi salvati direttamente arrivando terzi senza passare da play-out è stato molto positivo perché tra infortuni, sventure di vario genere e tutte le varie vicissitudini che sono successe non era semplice alla fine sono state brave, a un certo punto sembrava quasi certo che si sarebbe dovuto fare play-out invece poi alla fine si sono classificate come terze nel girone siamo stati contenti perché abbiamo risparmiato la lotteria dei play-out e di dover fare due partite in più considerando che è una squadra di tutte ragazze molto giovani che si allenano tutte come base al nostro circolo tranne una ragazza che è di massa e si allena là tesserata da noi da quando aveva 11 anni quindi insomma siamo contenti perché è una squadra parecchio autoctona e quindi siamo contenti doppiamente. Sarà la del Pinto e Associati Studio Legale Cristoese a sostenere la prossima stagione? Quest'anno ha iniziato una collaborazione con noi per sostenere in particolare l'attività dei giovani atleti quindi in quel caso specifico di oggi le ragazze della serie B femminile di cui molte sono del nostro vivaio e che hanno raggiunto una brillantissima salvezza nel campionato di B appena concluso e quindi ripartiranno per la prossima stagione con nuovi obiettivi e traguardi ma più in generale direi che lo studio del Pinto sosterrà veramente l'attività di tutti i nostri più giovani l'attività agonistica in particolare ma anche diciamo tutta quella che è l'attività del nostro circolo Da un po' di tempo abbiamo deciso di sostenere un po' di progetti sul territorio quindi dall'arte allo sport adesso e quindi ci siamo un pochino avvicinati anche tramite il Presidente e il Vicepresidente alla realtà del tennis Pistoia che è una splendida realtà e abbiamo deciso di dare il nostro piccolo contributo diciamo alla squadra femminile che peraltro fortunatamente ha ottenuto e sta ottenendo ottimi risultati In bocca al lupo quindi anche alla squadra femminile di tennis con questa notizia noi chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale noi ci vediamo domani però rimanete con noi per le ultimissime notizie del nostro telegiornale una buona serata Grazie a tutti